buon pomeriggio amiche ben ritrovate sul mio canale come vedete oggi qui davanti a me ho poche perline cosa andremo a fare sigla e vi mostro tutto allora chi ha visto il video di domenica quello del mercatino avrà visto che avevo realizzato degli orecchini al lobo eccoli qui ve li mostro orecchini bon ton quindi oggi andremo a fare questi orecchini ve ne mostro le varie versioni questi sono il primo prototipo infatti sono venuti un pochino pochino non troppo precisi questi invece sono quelli successivi e oggi andremo a fare questi che vedete qui in questi colori favolosi i materiali che ci serviranno non sono tantissimi come vedete sono qui sul mio tavolo l'orecchino come vedete è piccino è intorno al centimetro e mezzo quindi veramente al lobo è carinissimo guardate lo metto vicino a un righello e vedete che non arriva ai due centimetri insomma è piccino e portabilissimo e la cosa carina è che praticamente si può utilizzare anche come perno e poi mettere sotto una goccina naturalmente in un verso o in un altro questo sta insomma alla nostra al nostro gusto personale vi mostro le varie si possono posizionare sia sotto al bicono o anche le gocce sotto dov'è la perlina basta semplicemente allungare un pochino ma possono essere utilizzati e fatti tanti di questi modulini semplicemente tutti insieme e realizzare dei bracciali star a voi decidere come utilizzarli io ve li propongo come orecchini al lobo orecchini bon ton sono carinissimi sembrano dei fiorellini dei boccioli mi piacciono veramente tanto e andiamo subito a vedere i materiali se mi state conoscendo con questo video mi raccomando ragazze vi do il benvenuto e iscrivetevi al canale e cliccate la campanella così da non perdere le notifiche dei prossimi video io mi chiamo gabriella e mi piace creare bijou in tecniche diverse oggi orecchini bon ton passiamo subito all'elenco dei materiali servirà un perno da 6 mm in acciaio questi piatti ve li consiglio sempre in acciaio ragazze io li ho acquistati su aliexpress penso di avere condiviso il link in uno dei miei ultimi video serviranno poi due colorazioni di super duo perché è carino creare il contrasto tra il centrale e i vari dei cori poi naturalmente potreste utilizzare anche un solo colore per ogni orecchino vi serviranno 12 super duo quindi 4 per il centrale e 8 per i dei cori 12 se utilizzate lo stesso colore poi vi serviranno per ogni orecchino 4 bicono della svaroschio sto utilizzando da 4 mm non so il colore di questi per me è fucsia e non so se la svaroschi mi chiama fucsia lo sapete io con i colori non tanto insomma me li ricordo e poi serviranno rocaille io sto utilizzando quelle della miyuki 11 0 e 15 0 questo è il materiale che ci serve naturalmente un ago e poi il filo io utilizzerò il fire line questi orecchini anche se sono piccini vi consiglio un filo resistente e ripassate più volte nei passaggi in modo da renderlo rigido e insomma stabile questo è il mio consiglio ok passiamo subito al dunque cercherò di essere breve perché veramente gli orecchini sono facilissimi alla portata di tutti la prima cosa da fare è quella di inserire 4 super duo sul nostro filo e andare a chiudere a cerchio ripassare e fare qualche nodino quindi semplicissimo ripassate e fate qualche nodino una volta che avete fatto il vostro nodino uscite da una super duo inserite una 15 0 ed entrate nella super duo che segue e tirate bene e fate questo passaggio per tutte quante le super duo che seguono quindi vi dovrete ritrovare quattro super due intervallate da 4 rocaille 15 0 ripassate una volta che siete ripassate in tutte le vostre rocaille e super duo portatevi ad uscire dal foro basso di una super duo ed entrate nel foro alto della super duo io giro poi il lavoro per comodità se ci riesco ok e a questo punto vado ad inserire sul lago una super duo una super duo e vado nel foro alto della super duo che segue quindi passaggio super super semplicissimo e faccio quest'operazione per gli altri tre spazi a fine giro vi troverete in questo modo e naturalmente dovete ripassare quindi ripassate bene vedete il lavoro e molliccio quindi ripassate una volta che siete ripassate e vedete che il lavoro è più teso cosa facciamo usciamo dal foro vedete della super duo quella in basso dove ce ne sono posizionate due e mi porto nel foro alto della super duo quindi mi sono portata a uscire da questa dal foro alto della super duo dove ce ne sono posizionate due e in questo spazio vado ad inserire il mio bicono in questo modo mentre nello spazio qui in corrispondenza di questa super 2 in basso di colore diverso vado ad inserire tre rocaille 11 0 sto utilizzando quelle della miyuki lo dico perché c'è differenza tra to e miyuki e potreste non ritrovarvi quindi faccio questi inserimenti gli stessi identici inserimenti per gli altri spazi quindi bicono rocaille bicono rocaille bicono rocaille e ripasso a giro finito vi ritroverete in questo modo ho girato il lavoro per comodità come vedete esco da questo bicono rientro nella super duo e ripassando tra tutte quante le rocaille entro nel prima rocaille 11 0 ne salto una entro in quella successiva quindi tiro un pochino e la mia 11 0 si posizionerà in questo modo ok fate questo passaggio quindi ripassando attraverso tutto il nostro modulino a fine giro quindi vi ritroverete in questo modo ok quindi sono ripassate vedete ho realizzato stringendo un pochino il nostro lavoro adesso il lavoro si andrà a stringere ulteriormente perché andremo a fare i nostri decori allora uscirò dalla prima rocaille 11 0 ok e andrò a inserire sul lago una rocaille 15 0 salto questa rocaille e vado nella 11 che segue tira un pochino il lavoro quindi si posizionerà in questo modo dopodiché entrerò nella super duo e nel bicono scusate ok dicevo entrerò nella super 2 nel bicono a questo punto devo fare il decoro sul mio bicono e vado ad inserire 4 rocaille 15 4 rocaille 15 ed andrò aspettate sto scendo da qui e vado nella 15 0 questa qui in corrispondenza in basso tiro e tiro per bene ok cosa faccio poi entro nella prima 15 0 vedete spero che si veda tiro 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 bene bene senza naturalmente rompere il filo però deve essere tirato e a questo punto ne andrò a inserire soltanto 33 rocaille 15 0 ed entrerò dal retro del mio bicono ok questo sarà il nostro decorino quindi ripassate e inserite una 15 0 qui nella parte sottostante qui in mezzo e farete questi decori con le 15 0 sotto ai quattro bicono e alla fine vi verrà questo tipo di decorazione eccola qua quindi ripassa fate questi passaggi e ripassate perché poi dobbiamo passare all'incastonatura una volta che avete effettuato tutti i decori questo dovrebbe essere il vostro modulino così come sta potete utilizzarlo per fare ciò che volete come intramezzo come unire più modulini per fare dei bracciali delle collane invece se volete fare naturalmente un orecchino al dobbiamo andare sul retro e realizzare l'incastonatura come vedete io mi porto ad uscire da questa super duo giro il lavoro e mi inserisco quindi nel foro qui in basso della super duo quindi nella parte sottostante a questo punto vado ad inserire tre rocaille 11 0 e mi inserisco nelle rocaille che seguono quindi salto questa rosata violetta che vedete e dentro all'interno delle mie della mia super duo e della mia rocaille naturalmente ho qualche difficoltà procedete anche un una perlina per volta ecco in questo modo e cerchiamo di rorrompere le 15 0 di base quindi procedete pian pianino ok quindi come vedete sono entrata quindi nuovamente nella super 2 nella 15 nella super 2 ed inserisco altre tre rocaille 11 0 sempre della miuki e vado anche in quest'altro spazio quindi faccio questa operazione realizzo quindi dei picco vedete dove c'è il decoro qui in alto realizzo dei picco con 3 rocaille 11 0 faccio questo per altre due volte questi sono come vedete i quattro picco ripassate adesso io cosa faccio potreste anche non utilizzare la colla con il perno però io sinceramente preferisco proprio utilizzare non ve l'avevo detto prima un pochino 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 poca 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 colla sul nostro retro pochissima raga pochissime pochissima colla ragazze poca 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 come vedete non si vede assolutamente dal davanti del nostro orecchino vado e lo vado a posizionare al centro in questo modo tengo giù e proseguo esco quindi da una 11 0 qui in punta avrei dovuto farlo prima ma mi sono distratta ok quindi come vedete sono qui dove la 11 0 una volta uscita dalla 11 0 prendo due rocaille 15 e vado nella punta qui del picco che segue quindi nella 11 0 centrale ancora una volta altre due rocaille 15 0 e vado nell'altra puntina in questa qui e faccio questa operazione per tutto quanto il mio giro ok quindi 215 215 215 e 215 sto inserendo le mie ultime 215 e vado nella prima da cui sono partita ok a questo punto tiro tiro e ripasso ripasso in tutto questo passaggio per fissare il nostro retro e la nostra incastonatura semplicemente il pochino di colla ci dà come dire un po di stabilità in più potreste anche non utilizzarlo comunque il nostro perno e ben fisso quindi ripassate 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 fino a che la vostra incastonatura fino a che la vostra incastonatura non sarà stabile quindi questo è il vostro retro e questo sarà davanti del vostro orecchino vado a terminare una volta che siete ripassate avete fatto qualche nodino tra le perline poi fate sparire il filo all'interno della lavorazione io sono arrivata quasi veramente agli sgoccioli con il filo quindi vado a fare un nodino e poi taglio il filo in eccesso quindi nodino tagliate il filo in eccesso utilizzate un brucia fili mi raccomando ed eccoci arrivati alla fine del nostro tutorial questi sono le varie versioni degli orecchini bon ton come vedete questo è il davanti e questo è il nostro retro orecchini facili veloci e vi assicuro indossati sono super super carini se riesco a fare una foto naturalmente degli orecchini indossati per la mostro mi raccomando ragazze se il tutorial vi è piaciuto lasciatemi un like e condividete orecchini bon ton baci e come sempre auguro a tutte buona creatività grazie grazie grazie